Pescheria Don Do, banchina di oro del Greco. I prezzi sono buonissimi. Allora questo pesce vi serve venite qua a Natale e non vi preoccupate. Lui è Don Do, il boss. Guardate che pesce, freschissimo. Lui li sta pulendo. Eccolo qua. C'è un grande tagliatore Vincenzo. Poi abbiamo le barchette. Abbiamo anche Natale preparato. Babbo Natale che se ne vuole in cielo. Pescheria Don Do. E così sta scritto, così dito. Guardate i prezzi. Guardate questi prezzi. Pesci ragazzo, guarda ci sta il pesce fresco. Sto registrando. Abbiamo anche il baccalà o stocche? Stocche e baccalà. Per Natale. Come le chiamate voi? Io le chiamo le spernocchie. E voi? Spernocchie. Va benissimo. Poi ci abbiamo, guardate questo acquario. Anche i pesci si accoppiano e fanno lavoro. Guardate questo incastro. Guardate questo incastro. Guardate qua, guardate qua. E ora ci abbiamo i frutti di mare. freschi, freschissimi. Ma sbaglio, manca il capitone. Ma ancora non c'è il capitone, vero? C'è? C'è? Ah, eh. Eccoli qua, i capitoni. Questa è la tradizione napoletana. Se non c'è il capitone, non è Natale. Non è Natale. Ok. Sì. Ecco. Guardate. E' vivo questo pane. Ce lo mangiamo? No. No. No, è peccato. Muttiamola a mare, vai. Va bene. Muttiamola a mare. Ok. Ok. Pescheria Dondò. Banchina di Torre del Greco. Buon Natale.